Si avvicina per l'Entella l'ultimo impegno della stagione regolare, com'è che Mr. Castorina ha visto i suoi ragazzi a livello mentale soprattutto? Ho visto la solita squadra che alleno ormai da circa dieci mesi, non abbiamo affrontato nessun tipo di discorso perché sono convinto che questi ragazzi conoscano già lo spessore della gara e che tipo di gara dovremo andare a fare. È nostra abitudine vivere la giornata, è nostra abitudine non esaltarci dopo delle buone prove ed è altrettanto nostra buona abitudine preparare con impegno tutte le gare, anche se questa potrebbe avere un sapore speciale. L'eventuale approdo alle Final 8 diretto passa dal campo del Livorno, un campo tutt'altro facile visto che anche la Juventus ha perso lì. Sì, al di là del risultato eclatante che ha avuto questa squadra contro la Juventus, sappiamo che è un campo pieno di insidie, è un campo che ospita comunque una squadra che probabilmente non merita neanche la classifica che ha perché anche all'andata ci ha messo molto in difficoltà. Io credo che i nostri ragazzi devano andare lì consapevoli delle loro potenzialità e soprattutto comportandosi come si sono sempre comportati in tutte le trasferte e soprattutto come si comportano durante l'allenamento, non sottovalutando nessuno, anzi avendo sempre rispetto, però cercando di imporre le proprie idee. L'ultima partita con la Pro Vercelli vinta per 5-3 è un po' la fotografia della stagione dell'Entella, una squadra spettacolare votata all'attacco. Alle fasi finali, che siano direttamente Final 8 o Play-Off, vorresti una squadra più cinica che vince 1-0 o comunque spettacolare come l'hai vista finora? È chiaro che abbiamo tratto dei grandissimi vantaggi da questa nostra fase offensiva, però dobbiamo ancora forse maturare un pochettino sull'equilibrio di squadra perché comunque concedere tre golla a una squadra come la Pro Vercelli ci lascia comunque molti spunti per poter lavorare. È chiaro che nei giovani può accadere a volte quando si abbassa un po' l'asticella dell'attenzione che si può incappare in errori individuali che non devono accadere. Questo fa parte del loro processo, credo che l'esperienza con la Pro Vercelli ci abbia lasciato tante cose da migliorare. Abbiamo lavorato in settimana e sono convinto che se il giovane non sbaglia, d'altronde non può mai migliorare. Sin da sabato saremo concentrati per lo meno per tutti i 100 minuti.